L'esplosione della pandemia ha subito ricordato agli addetti ai lavori la gemella spagnola, che nel biennio 1918-1919 falciò intere generazioni, soprattutto giovani, mentre il Covid ha colpito gli anziani, ma con meno morti. Eppure le conseguenze demografiche sono comunque gravi. A dimostrarlo è la relazione dei governatori di Banca Italia, in un approfondimento sulla denatalità. È prevedibile che nei prossimi anni la pandemia farà calare le nascite e i flussi migratori con effetti demografici a lungo termine negativi per l'economia italiana. La popolazione in età attiva, fra i 15 e i 64 anni, rischia in concreto di subire una flessione da circa un milione e mezzo di italiani, fino a 2,9 milioni di persone, quasi 3 milioni perciò. In seguito alla pandemia, tra dicembre del 2020 e gennaio del 2021, le nascite su base mensile sono state più basse, fino al 17% in meno, rispetto alle previsioni. L'effetto Covid si farà sentire anche su chi pensa di costruire in Italia il proprio futuro. Il peggioramento delle prospettive economiche, dice Banca Italia, potrebbe indurre una flessione del tasso migratorio, che nello scorso ventennio ha attenuato la tendenza alla riduzione della popolazione in età attiva, derivante da una bassa natalità. Oggi, dopo il Covid che ha ulteriormente bloccato la voglia, il desiderio, la capacità dei giovani di avere figli, siamo passati a 1,3 figli per donne. Quindi siamo davanti a un'emergenza, dobbiamo focalizzarci su questo tema della natalità, della famiglia, perché esce di mezzo il futuro del paese, il futuro delle giovani generazioni, ma il futuro di tutti. Una società che non riesce a costruire un equilibrio intergenerazionale è una società che alla fine non sta in piedi e crolla.